Prima udienza generale del 2014 per il Papa, oggi in piazza San Pietro e Papa Francesco ha iniziato una serie di catechesi sui sacramenti, la prima riguardato il battesimo. Tra l'altro, domenica prossima ricorre proprio la festa del battesimo del Signore. Il battesimo, ha detto il Papa, è il sacramento su cui si fonda la nostra stessa fede, che ci innesta come membra vive in Cristo e nella sua Chiesa. Insieme all'Eucaristia la confermazione forma la cosiddetta iniziazione cristiana, che costituisce come un unico grande evento sacramentale che ci configura il Signore e fa di noi un segno vivo della sua presenza e del suo amore. Ed è necessario il battesimo, non è un atto formale, tocca in profondità l'esistenza cristiana, sull'esempio di Gesù. Il Papa ha insistito poi molto sull'idea che il battesimo, ricevuto di solito da appena nati, non è un evento del passato avvenuto solo per volontà dei nostri genitori. È in forza del battesimo che, liberati dal peccato originale, siamo innestati nella relazione di Gesù con Dio Padre. Siamo portatori di una speranza nuova, che niente e nessuno può spegnere. Siamo capaci di perdonare e di amare anche chi ci offende e ci fa del male. Riusciamo a riconoscere negli ultimi e nei poveri il volto del Signore che ci visita e si fa vicino. Infine, il Papa ha notato che il battesimo è un evento ecclesiale, perché è la Chiesa che continua a generare nuovi figli in Cristo, nella fecondità dello Spirito Santo.